Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento Iron Man in scala 1 a 3, alto 60 centimetri, Marvel edizione di Agostini, ragazzi uscita numero 99, ancora una e poi, e poi è finita, e no, e no, e poi ci sono altre 20 uscite che potrete decidere di acquistare o di non acquistare, io le acquisto. Cosa danno in queste 20 uscite? Vi avevo già detto qualcosa nel filmato precedente, comunque ovviamente ci vengono fornite delle uscite che possiamo cambiare senza lavorare troppo, capisco anche che uno può farsi la domanda, come me la son fatta anche io, ma Iron Man qui possiamo dire che è fatto bene perché è appoggiato, però qua è tutto nuovo. Il problema è che se ci avessero anche fornito di questi pezzi avremmo dovuto sostituire, svitare tutta la gamba e loro questo lo sanno, quindi cosa ci hanno dato? Le due mani complete, dove vedo che mancano anche dei pezzi qua di metallo, danno i paragomiti, il casco completo, i muscoli, queste due parti dorate, la copertura delle quattro viti EM che bloccano il braccio, quindi dell'avambraccio, il torace completo, addome e torace, qui abbiamo anche un foro che è stato riprodotto, questo è fatto bene, poi i polpacci credo di averli già detti, abbiamo anche l'interno cosce, eccolo qua, quindi qualche pezzo ci viene fornito, se considerate che ci danno anche due mani e poi sinceramente io decido di farlo anche perché voglio avere una collezione che è già completa di suo, perché sappiamo tutti che al centesimo numero la collezione è perfetta, però io voglio continuare anche con questi eventi che sono uscite opzionali, ecco, qui vedete fanno vedere queste ma non ci danno solo queste, come vi ho detto vi danno tutto ciò che vi ho elencato, se non sbaglio ma non sono sicuro di questo, la prima parte del casco verrà data gratuitamente, ma mi raccomando come vi ho detto non è certo quello che vi sto dicendo, vedremo. Un'altra cosa, ci sono stati diversi di voi che mi hanno scritto se appunto l'armatura si fosse completata con le 97 uscite, sì, alla 97esima uscita l'armatura è completa, però sinceramente rinunciare a fare altre tre uscite soltanto perché non vi interessano le altre due posizioni che abbiamo visto nell'uscita precedente, io penso che sia un errore non farle, ognuno fa quello che vuole con i propri soldi, però la collezione completa secondo me almeno a 100 ci dovete arrivare, poi ragazzi vedete voi, anche per avere i fascicoli fino al 100 insomma, la collezione è 100, io vi consiglio di, indipendentemente dal fatto che ci saranno poi dei pezzi che vi avanzeranno, io vi consiglio di farli. Bene, grazie ragazzi della vostra attenzione e grazie soprattutto delle visualizzazioni e delle iscrizioni, grazie ragazzi, grazie mille. E dopo questo video andrò a preparare, vediamo se lo trovo, questo qua, che è l'uscita numero quattordici della Lancia Stratos. Andate anche a dare un'occhiata se avete piacere alla playlist e potete trovare altri modelli. Allora qui abbiamo la prima di copertina che sono i numeri utili e servizi che si ripete ad ogni fascicolo e vi volevo far vedere anche, per chi fosse interessato alla lettura, quelli che sono i contenuti di questo novantanovesimo fascicolo. E poi passiamo al montaggio, che è molto semplice, però sono già dei bei pezzi quelli che ci han dato nell'uscita 98. Credo che sia stata la consegna, diciamo la consegna, l'uscita più voluminosa in assoluto. Ecco qua, questi sono i contenuti che andiamo a vedere dopo. Comunque, ci dicono che in questa uscita continuerai ad assemblare i componenti dei gruppi addome bacino necessari a disporre al tuo modello nella posizione C e D. La posizione C e D, se vi ricordate, è quella con la gamba allungata da una parte, la destra oppure la sinistra, che abbiamo visto appunto nel fascicolo precedente. Ecco qui, qua abbiamo altri titoli, bellissime queste copertine, che possiamo dire? Sono fascicoli ricchi di informazioni e di immagini bellissime. Poi farò un video, ecco perché vi dico non mandate avanti veloce, non si fa, fetenti, fetenti, non si fa. Poi farò un video dove, stavo pensando quale termine usare, più corretto per non ripetermi, dove renderò noto finalmente l'errore che hanno fatto anche di progettazione nel braccio. Ho pensato se farvelo vedere o no, perché in realtà abbiamo già risolto con le modifiche che vi ho consigliato e che tanti di voi senza la mia informazione sono riusciti sicuramente a risolvere forse anche meglio. Quindi bravissimi ragazzi. Sapete che c'è il gruppo su Facebook, quindi quando avete idee, quando avete qualsiasi cosa, scrivete perché insieme si cresce, non da soli, in tutto, in tutto nella vita secondo me, anche da queste piccole cose. E quindi stavo dicendo che già ciò che avevo detto e proposto, come molti di voi mi hanno scritto e vi ringrazio, che sono soddisfatti che il braccio sta su, che non cade la testa e tante altre cose. Mi fa molto piacere questo. Questa è la prossima uscita, costruisci la terza parte della posizione CED di addome e bacino e finiremo la collezione, come abbiamo già detto. E quindi vi farò vedere qual è il problema che ha causato la caduta del braccio anche se stringevamo bene le dita. E farò un video per quello. Se avete del bicomponente epossidico ce ne sarà bisogno, altrimenti comunque potete acquistarlo. Sono quella specie di siringhe che vanno unite, ma vi spiegherò, vanno unite per poter poi far sì che si induriscano. Però è una cosa che vi può servire sempre. Quindi l'epossidico prendetelo, usate meno possibile il cionacrilico sulla plastica perché cristallizza e si rompe col tempo. Usate piuttosto delle colle apposite per modellismo. Sapete quelle che scontrate le due plastiche, toccate e c'è una fusione tra le due parti e quelle vanno benissimo. Allora, torniamo a noi. Io vi consiglio di prendere anche quelli che avete montato nelle uscite precedenti, i due gusci, sia il destro che il sinistro. Vedete, quello che ha il foro di qua e quello che ha il foro di là. È tutto in plastica, non ci sono problemi, meno male anzi, guai se fossero stati in metallo questi pezzi come molti di voi invece vorrebbero che fossero perché il metallo tende a rovinare o il metallo dove batte o la plastica che è più debole. Quindi plastica con plastica difficilmente si rovineranno. Andiamo a separare subito i pezzi. Qua abbiamo la lettera R, qua abbiamo la lettera L. Fate attenzione perché possono sembrare uguali questo, ma non lo sono affatto. Abbiamo la lettera L e la lettera R. Qui potete notare la differenza. Guardate, questo finisce in questa maniera qui, col collarino, questo invece è liscio. Allora, R, R, L, L. Ok. Poi abbiamo questi che se visti così sembrano identici, ma sotto non lo sono. Qui abbiamo il foro. Potete metterlo sia così che così, non c'è alcuna differenza. Quindi questo lo mettiamo, quelli che hanno i perni andranno nella lettera L e per esclusione ovviamente questo andrà con la R. Prendiamo le viti IP, ce ne serviranno due, e andiamo ad avvitarle qua. Fermatevi prima, non arrivate fino in fondo perché dovete considerare che poi c'è questo spessore, altrimenti uscite da sotto. Fermate e la lasciate così. Facciamo la stessa cosa con l'altro pezzo. Attendo anche le uscite di Robocop, mi devono arrivare il numero 3, il numero 4 e il numero 5. Non vedo l'ora. Lo so, l'ho iniziato un po' in ritardo, molti sono già all'uscita 15, anche di più forse. Ma che devo fare? Ho prima fatto due calcoli, poi ho detto ma sì dai, mi tolgo qualcosa e vado avanti. Va bene, fate attenzione quando avvitate, guardate sempre che sia perfettamente diritta al pezzo la vite, non mettetela storta. Quindi la avvitiamo e ci fermiamo anche qui, così, senza arrivare in fondo. Poi vi do anche un altro consiglio. Quando arrivano i pacchettini delle viti, non dovrebbe succedere, ma sono sicuro che anche a molti di voi sarà successo come me. Fate attenzione e controllate tutte le lunghezze. Lo vedete subito, ovviamente, non si parla di mezzo millimetro. L'errore è macroscopico, se c'è. Quindi guardate che tutte le viti siano uguali, perché può succedere che vi mettano delle viti sbagliate insieme. Quindi fate attenzione a questo. Poi, non confondete queste due viti, perché una è la OP e una è la QP. Allora, quella più lunga, facciamo attraversare tutto questo. Così. Andiamo a crearci il filetto. Ricordatevi, non usate mai olio, mai nelle plastiche, mai. E la lasciamo lì. Prendiamo l'altra. Chiudiamo perché non ci servirà più. Questa è data in più. Ok. Poi le svitiamo tutte e due e le lasciamo soltanto inserite nel primo foro. Così. la lasciamo appena appena uscire da qui. Appena appena. Ok. A questo punto, fatemi dare un'occhiata alle istruzioni perché devo solo vedere da che parte mettono le viti. Ok. Andiamo a prendere questo. Eccolo qui. Quello che ha i perni sotto, i fori. Svitiamo questa vite che è la IP. ok. Facciamo la stessa cosa con questo. Lo mettiamo girato così. e mettiamo la vite da questa parte. Ecco qua. Ecco qua. Fate attenzione quando avvitate che non vada qui, su questo gradino. Fatelo andare giù correttamente nella sua sede. E poi avvitate. Questo ha un po' di gioco. Lo potete vedere. Cercate di centrarlo un po' e avvitate. Ecco. A questo punto, questa è la lettera R. Prendiamo questa, che è la lettera R, e la giriamo così. Guardate. Ok. Ecco qua. Sostituisco il cacciavite che ha il metallo più fine e vado meglio ad avvitare. va bene. E questo qui, che è l'L. va bene. E questo qui, che è l'L. perfetto. Perfetto. Lo mettiamo così. Ok. perfetto. Controlliamo che tutto sia a posto. ed è a posto. A questo punto mettiamo via questi un attimo. Prendiamo due viti QP. e andiamo a crearci il filetto qui. arrivate fino in fondo. e poi svitiamo. facciamo la stessa cosa con l'altra parte dell'addome. Vi ricordate che qui ci permettono di avere le due posizioni con la gamba destra allungata su un fianco oppure con la gamba sinistra allungata. sempre sul fianco. Ecco qua. poi andiamo a inserire questo all'interno qua. mentre lo facciamo dobbiamo anche inserire questa parte qua. quindi con delicatezza guardate il foro quando vedete che combacia e mettete la vite. volevo farvi vedere il nome della vite. Eccolo qui. quindi la QP ricordatevi di non confonderle con la QP con la QP che è più lunga questa perfetto andiamo ad avvitare prima di farlo prima di farlo di avvitare fino in fondo inserite questo inserite questo dietro così quando tocca dappertutto stringete forte tenendo il dito qui ok questo lo possiamo togliere facciamo la stessa cosa dall'altra parte quindi inseriamo sempre la parte superiore qua dentro guardate il foro quando vedete che il foro è passante mettete la vite ecco fatto a questo punto il montaggio è terminato andiamo così per curiosità a vedere come si presentano i due pezzi questo non va qui quindi è questo voilà fate attenzione perché deve inserirsi ovviamente il perno fate così mettiamo prima questo ok ecco qua poi inseriamo questo nei fori allargiamo un po' e facciamo prima ecco qua direi che è perfetto questa è la posizione è la parte dietro questa è la parte davanti qui qui avremo la gamba sinistra che si allunga ecco qua sto guardando una cosa un attimo solo ragazzi allora questo l'abbiamo già visto stringete bene questa che sia rigida sarà più facile poi farla stare in posizione quando la chiudete tra la plastica tra una plastica e l'altra adesso andiamo a controllare anche questa giriamola di qua inseriamo i due perni ecco qua e questa che è la parte della schiena la giriamo così e ovviamente questa permetterà alla nostra armatura di far andare sul lato destro la gamba distesa una è di qua prendiamo l'altra forse in questo video finalmente sono riuscito a non uscire dall'inquadratura ecco qua vedete gamba sinistra divaricata gamba destra divaricata perfetto bene questo è quello che abbiamo montato nel numero 99 abbiamo finito Michele vi ringrazia del vostro tempo grazie ragazzi grazie del supporto iscrivetevi al canale se ne avete piacere perché così sono ancora più contento non lamentatevi delle pubblicità perché quello che vedete è gratuito voi non pagate nulla ma almeno a me mi entra qualcosa e come vi ho già detto non perché mi pianga io addosso ma per onore del vero non avete idea ragazzi di cosa pagano in Italia per le visualizzazioni quindi non vi dico niente perché non si può dire ma nello stesso tempo vi dico chi fa questo deve soltanto solo pensare che non può vivere di questo a meno che non abbia non lo so penso almeno un centomila iscritti ecco quindi ragazzi se dobbiamo uscire a mangiare una pizza insieme paghiamola romana perché è già tanto se non vi chiedi soldi a voi per pagarla va bene ragazzi un abbraccio a voi tutti a tutti i vostri cari più cari e dal prossimo numero qua abbiamo tre cifre uno zero zero cento l'ultimo numero e poi ci vediamo per quelli che avranno piacere con la battery damage non so dirlo con l'armatura danneggiata ciao ragazzi buona giornata Michele vi abbraccio a tutti grazie di cuore di supportarmi dei consigli che mi date saluto anche Pasquale ti ringrazio ancora per il video meraviglioso che mi hai fatto con tutto il cuore non ti ho chiesto niente non mi sarei permesso c'è chi mi ha promesso qualcosa e non mi ha dato nulla senza che io chiedessi nulla ovviamente non faccio nomi di questi ma tu Pasquale non solo mi hai regalato un robot ma mi hai anche fatto quel video meraviglioso che a me sembrava di essere in un film mamma mia non ci posso credere non so spiegare l'emozione che ho avuto quando ho visto il mio nome sotto la musica che io non sono capace di fare il montaggio che io non sono capace di fare lo potete vedere dai miei video mi cade tutto esco dalle inquadrature vedete solo le mani quando vorrei anche potermi far vedere in volto ragazzi abbiate pazienza se il canale sopravvive perché di oggi questo si parla io cercherò di migliorarmi piano piano eh piano piano ciao ragazzi grazie di tutto